Grazie dell'invito, io condivido intanto la presentazione. Aspettate che tra le tante cose ora è proprio quella che non trovo. Vedete il mio schermo? Si si vede. Benissimo, grazie per questo invito, è un'occasione bella per condividere un'esperienza nazionale e internazionale che stiamo portando avanti da un po' di anni. E poi condividerò questa presentazione con Alessandra Moi, che ovviamente voi conoscete bene, ma mi fa piacere vedere diverse persone che collaborano in Mario Modo a questo progetto, tra cui Claudio Forziati, Anna Leonetti, Annalisa Isabato e poi soprattutto Roberto delle donne. Poi vi dirò perché soprattutto Roberto delle donne. Dunque, partirei un po' velocemente da una sintesi del progetto. Parliamo in generale di Share Family, è un progetto specifico che nasce nel 2016 come attività di ricerca e sviluppo ed ha proprio lo scopo di accompagnare e supportare le biblioteche in questo momento importante di transizione da un vecchio schema di catalogo ad una nuova tecnologia, che è quella delle tecnologie del web. Quindi come fare in modo che le biblioteche possano transitare da un contesto validissimo, ma un po' limitato, diciamo, alle biblioteche, al contesto quello del web e delle sue tecnologie, che è ovviamente molto più ampio. Nel tempo il progetto pilota, che era nato come progetto Share VD, e che però nasceva da un progetto tutto italiano, che è Share Catalog, e per questo qui ho voluto citare il professor Roberto delle donne, perché il progetto è nato proprio in Italia con menti italiane, con suggerimenti di italiani e con tecnologia italiana e poi è piaciuto moltissimo negli Stati Uniti e lì ovviamente con un altro tipo di approccio hanno concordato e accettato di aderire all'iniziativa per estenderla, supportarla e sostenerla. In breve l'iniziativa, perché appunto non vogliamo parlare di un progetto unico, ma un'iniziativa, quindi un insieme di diversi progetti, ha come scopo principale quello di convertire dati da vari formati, principalmente dal MARC, nelle sue varie declinazioni, a LinkedIn Open Data. In particolare utilizzando BibFrame come ontologia principale. In realtà poi diventa qualcos'altro e soprattutto Alessandra vi mostrerà poi le evoluzioni in corso, ma soprattutto la caratteristica di questa iniziativa è quella di cercare di creare delle nuove fonti di dati che abbiano soprattutto la caratteristica dell'autorevolezza, quindi che utilizzino fonti autorevoli, cross domain, ma che soprattutto vengano da istituzioni con una certa tradizione catalografica e così via. La cosa interessante è che tutta questa parte, questo lavoro ovviamente viene fatto non soltanto per dare impasto alle macchine dati in una struttura per le macchine comprensibili e riutilizzabili, ma anche per sperimentare e mettere a punto delle nuove modalità di fruizione da parte degli utenti finali, siano essi bibliotecari, quindi professionisti oppure end user. E il discovery, quindi il sistema, lo abbiamo definito proprio un entity discovery system perché l'approccio di presentazione e di gestione dei dati passa dal record all'entità, ma questo poi ve lo faccio vedere. Velocemente dove si sta estendendo l'iniziativa, quindi partita dall'Italia con Share Catalog, è arrivata negli Stati Uniti, in Canada, è tornata in Europa coinvolgendo biblioteche europee e qui avete un breve riassunto delle biblioteche, diciamo un elenco delle biblioteche partecipanti e vedete quindi che dall'Italia è andato negli Stati Uniti e negli Stati Uniti di Canada è tornato in Europa con molte biblioteche importanti, tra cui per esempio la British Library, la National Library of Finland, Norway e così via. Un altro progetto italiano è nato da questa iniziativa e poi il progetto Parsifal che vede coinvolte le biblioteche della rete urbe, ma voi della rete urbe ovviamente saprete tutto. Perché c'è Stefano Bargioni qui nel gruppo. Allora un po' di informazioni sulla diffusione nella comunità internazionale, perché questo è un po' una cosa a cui noi teniamo tanto, come collegare realtà diverse. Prima di tutto pensando soltanto ai membri di ShareVD, che è la parte americana del progetto, soprattutto americana, questo ha prodotto una connessione di cataloghi di biblioteche universitarie e nazionali, come abbiamo detto, dislocate in USA, in Canada e poi riagganciando le nazionali europee. Dai membri di ShareVD, e ci tengo a dire che il risultato appunto è un catalogo integrato, quindi dove le informazioni sono opportunamente integrate, poi una connessione all'interno di una più ampia comunità sempre di biblioteche, quindi l'aggancio con la Labro Congress, che ovviamente è anche membro di ShareVD, quindi partecipa attivamente, ma con tutti gli strumenti e le fonti della Labro Congress, con la più larga comunità di utilizzatori di BibFrame, tra cui la comunità europea, con IFLA, ovviamente che conoscete, LD4P, che è l'iniziativa, anche questa nordamericana, per l'evoluzione dei progetti LinkedIn Open Data in termini di produttività, quindi non soltanto la pubblicazione, ma anche la creazione, con community vaste come OCLC e come Folio. Ancora però, le connessioni si estendono ai progetti gemelli, quindi a un certo punto ci siamo resi conto che i progetti, le iniziative, ShareVD, ShareCatalog, ShareMusic, che è un prototipo sulla base, diciamo, dei dati musicali, Cubicat, Parsifal, eccetera, avevano molti aspetti in comune, molti fattori in comune e soprattutto avevano in comune dei tavoli di discussione da condividere, su cui fare in modo che le persone si potessero incontrare e dialogare. E ancora, non contenti di questo, una connessione nella più ampia comunità del web, quindi l'aggancio a Wikidata, l'aggancio a Schema.org, l'aggancio al protocollo IIIF, Geonames, Getty e così via, tutti i progetti che ovviamente conoscete. La ShareFamily come componenti tecnologici, che cosa fornisce l'adesione alla ShareFamily? Abbiamo riportato qui in maniera grafica e speriamo semplificata un po' di questi, che sono i risultati finali o transitori anche di un progetto, quindi a partire dai deliverable, questi in giallo, che sono i dataset arricchiti in bibframe, in marca arricchito, eccetera, e poi mano a mano salendo, andando sempre più sulle tecnologie. Quindi il portale, il Discovery Portal, nella versione 1, dove è ancora il progetto ShareCatalog e dove presumibilmente risiederà per un certo tempo il progetto Parsifal, la nuova versione, il Discovery Portal 2, con tutte le biblioteche che già sono transitate su questa nuova versione, Jack Riket come editor di dati, poi vi parlerà Alessandra abbondantemente di questo. E poi tutta la parte di servizi e di tecnologie, quindi dai servizi, tutto un servizio di authority services, pensati già nell'ottica LinkedIn Open Data, la parte di integrazione con i sistemi locali, quindi tutte le API per agganciare i vari sistemi locali yields, e ovviamente la parte tecnologica, il triple store e così via. Quindi non mi soffermo su questo per non perderci troppo tempo, ma lasciarvi comunque informazioni su questo. Una cosa che ci piace proprio tanto condividere con voi è l'approccio condiviso, diciamo, che è dato da questa comunità, e da questa comunità che cresce sempre di più e di cui appunto noi siamo solo una piccola parte, perché poi è partecipata da tantissime istituzioni e soprattutto da tantissimi esperti dei vari domini. Chi aderisce tendenzialmente all'iniziativa Share e come? Sicuramente una larga adesione c'è tra le biblioteche che in qualche modo sono costrette o attratte dalle tecnologie del web, possono essere attratte perché se ne parla tanto, perché hanno già capito il vantaggio di essere in un livello un po' più alto rispetto a quello tradizionale della biblioteca, che è quello appunto del web, e che per la prima volta devono cimentarsi con certe tecnologie, certi linguaggi, certi standard, che non sono proprio così semplici da approcciare se non si ha uno staff super preparato su queste cose. Ma ci sono anche istituzioni che hanno già propri progetti LinkedIn Open Data, per esempio la British Library che tradizionalmente pubblica la bibliografia nazionale LinkedIn Open Data e che aggancia l'iniziativa Share proprio per estendere il tavolo della discussione per partecipare a temi che non sono più solo quelli della pubblicazione ma che vanno oltre. Quali sono i benefici per le istituzioni? Sicuramente un arricchimento dei dati perché vengono agganciate fonti differenti e perché già nell'integrazione dei propri cataloghi ovviamente c'è un accrescimento del layer informativo partendo invece da quello che è un catalogo locale. È l'idea di una costruzione di un nuovo catalogo collettivo basato sull'entità ma c'è soprattutto un grande interesse proprio per questo coinvolgimento di bibliotecari professionisti per una collegiale discussione sui temi e anche per una collegiale revisione dei dati. Sono progetti in cui è difficilissimo muoversi in solitudine come singola biblioteca. E poi c'è il mantenimento, la possibilità di mantenere a livello locale le prassi e le regole che sono adottate e che sono preferite. Sulla base di questa comunità nel tempo si sono create, quindi di questo movimento di coinvolgimento, di discussione, di questi tanti tavoli che stimolano proprio la riflessione e la condivisione, si sono nel tempo creati proprio dei gruppi di lavoro. E tra questi mi piace citare, tra i più recenti, quello italiano per la conversione da Unimark a Bibframe. Anche un po' per sfatare questa sorta di leggenda metropolitana che a Bibframe ci si arriva facilmente partendo dal Mark 21 ma che poi dagli altri formati sia impossibile. Il gruppo italiano che è guidato proprio da Claudio Forziati si sta cimentando in questo, in una revisione di processi di conversione che erano già stati comunque scritti per il portale Share Catalog. Poi abbiamo per esempio il nuovo gruppo italiano su Wikidata, per il quale abbiamo ancora qui delle rappresentanze. Credo che anche su questo Claudio con Alessandra stiano dando un grosso contributo, ma non cito più nessuno perché so che siete diversi. Un gruppo dedicato alle bibliografie nazionali. Questa è una cosa molto interessante perché si è costituito questo gruppo che coinvolge varie biblioteche nazionali nel loro ruolo di agenzie bibliografiche nazionali per creare un tenant, un dominio, un luogo in cui si possano pubblicare in LinkedIn Open Data proprio le bibliografie nazionali. Quindi avere un accesso unico ad uno spazio in cui gli utenti trovino pubblicate tutte le bibliografie nazionali dei paesi che piano piano stanno aderendo. E qui c'è uno stretto collegamento anche con l'IFLA. E poi altri tavoli di discussione nell'ambito delle fototeche, delle collezioni di materiali audiovisivi e così via. Specificatamente su Share, ma estesi anche a membri non Share VD, quindi ci sono anche qui partecipanti di Share Catalog e di tante altre istituzioni, PCC eccetera, abbiamo questi gruppi che sono la Share VD Advisory Council, di questi vi parlerò proprio a seguire, il Sapienza Entity Identification Working Group, l'Authority Identifier Management Service Working Group, il Cluster Knowledge Based Editor Working Group e lo User Experience e User Interface Working Group. Brevemente, lo Share VD Advisory Council, di cui ripeto fanno parte diversi membri di tante biblioteche, comprese quelle italiane, è sostanzialmente il comitato direttivo che discute la direzione strategica e che supervisiona il lavoro dell'intera, dei tutti i gruppi che partecipano all'iniziativa. Nel settembre 2021 è stato pubblicato uno statement, quindi delle affermazioni su cosa sia l'iniziativa in ambito, link e dopendata, questi link sono funzionanti, quindi poi immagino Carlo avremo modo di distribuire le slide, quindi potete sicuramente... Magari, magari, certo. Assolutamente, e quindi il lavoro di un gruppo che ha la funzione di supervisionare e dare l'orientamento, la direzione a tutti gli altri gruppi che collaborano. L'Authority Identifier Management Service Working Group, invece, è un gruppo di specialisti che si è focalizzato per buona parte del loro cammino sulle pratiche per il controllo d'autorità, quindi il controllo di qualità del dato, in ambiente non solo mark ma anche link e dopendata, quindi analizzando i casi d'uso, facendo un'analisi funzionale e agganciando e immaginando le interazioni con altri mondi, tra cui appunto Wikidata e ISNI. E poi Alessandra vi farà vedere un po' alcuni risultati. Un gruppo specifico sul Cluster Knowledge Based Editor, quindi un gruppo che ha lavorato specificatamente all'analisi della Cluster Knowledge Based di ShareVD, ma ogni progetto ha una propria Cluster Knowledge Based, quindi quanto deciso per la Cluster Knowledge Based di ShareVD, che ha questo nome Sapienza viene poi riferito a tutti gli altri gruppi, con particolare attenzione alle necessità di modificare i cluster che vengono definiti con processi automatizzati, quindi anche in questo caso lo studio dei casi d'uso, l'analisi funzionale, tutto il materiale che solo esperti di dati possono fare in queste aperte e in alcuni casi anche complicate discussioni, e che poi viene tutto passato agli informatici perché lo rendano poi in un servizio concreto. Il Sapienza Entity Identification Working Group è invece un gruppo molto attivo che per dirla brevemente si occupa dell'entity modeling, cioè di tutte le problematiche che sono legate al passaggio da una descrizione piatta al record proprio al modeling, al modellamento dell'entità. Come fare, come accompagnare questo passaggio? Quali sono gli algoritmi, i campi da analizzare per fare in modo che partendo da una mole di dati importantissima, pensate che solo su ShareVD vengono elaborati 100 milioni di record bibliografici e circa 46 milioni di record di authority, a partire da questa mole di dati si possa arrivare a tirar fuori l'entità, quindi l'entità previste da BibFrame, ma poi vi farà vedere Alessandra anche l'entità che è stato necessario aggiungere per meglio gestire questi gruppi così corpose e con esigenze così diverse. Lo User Experience User Interface è un gruppo che è stato gestito da una piccola azienda specializzata in questo danese che collabora con noi, Samhang, e che fa proprio studio di usabilità del portale. Quindi si è dedicato per molto tempo alle interviste, non solo ai bibliotecari, ma soprattutto agli utilizzatori finali e ricercatori, per fare in modo che poi il risultato finale pubblicato su un portale fosse in qualche modo di facile e gradevole utilizzo per gli utilizzatori finali. Ovviamente ha analizzato anche la parte di Jack Riket, che è l'editor, che sarà utilizzata solo ed esclusivamente dagli esperti, dai catalogatori, dagli esperti di metadati. Ma tutto con l'ottica di usabilità dell'interfaccia. E poi questo gruppo che appunto vi citavo prima, che è molto importante perché ha appunto un collegamento anche con l'IFLA Bibliographic Section, che è il National Bibliographies Working Group e che sta lavorando proprio su tutta l'analisi per pubblicare il LinkedIn Open Data e le bibliografie nazionali. Allora, questo concetto di share family introduce un concetto che è di collaborazione e di autonomia insieme. Di collaborazione perché, come vi farò vedere dopo, la gran parte della piattaforma tecnologica e anche dei risultati, dei tanti tavoli di discussione, di analisi, di confronto, hanno poi risultati comuni che si riverberano su tutti i progetti che fanno parte della share family. Ma anche autonomia perché è quel meccanismo che è stato messo su, questo che viene definito a tenant, che garantisce la massima autonomia di ciascun progetto, di ciascuna rete, di ciascun tenant. Questa è una rappresentazione apparentemente complicata, ma forse neanche tanto, di quello che significa una infrastruttura tenant, dove sono rappresentate le varie cluster knowledge base. La cluster knowledge base è proprio il database delle entità che sono state prodotte a partire dai record bibliografici e che mostrano proprio come ciascun progetto, per esempio, share catalog, oppure share vd, oppure cubi, catalanational bibliographies, possa mantenere guardandolo verticalmente una propria autonomia, con una propria interfaccia, con un proprio jack cricket editor, ma anche una trasversalità di esperienze. il tutto collegato attraverso questo SFI, che è uno share family index, un indice centrale che riporterà precisamente quella entità, l'entità Dante Alighieri, dove è trattata nei vari progetti e quale URI è associato. un indice molto semplice che consente però a questi progetti di dialogare, perché che cosa consente soprattutto di fare? Di creare dei servizi tra i vari tenant, cioè i partecipanti delle national bibliographies potranno partecipare a share vd, per esempio aggiornando direttamente il dato qui presente e mandando l'aggiornamento direttamente con share vd, share catalog potrà avviare altri progetti e processi di cooperazione con altri tenant, ma ciascuno mantenendo comunque una propria autonomia sia di presentazione del dato sia di gestione, quindi una propria cluster knowledge base. Quello che quindi in qualche modo è mio compito sottolineare in questa presentazione è proprio questo passaggio che io da sempre ho definito epocale perché ci sto dentro questo mondo da circa 25 anni e capisco la portata di questo movimento, di questa tendenza che può essere ottimizzata e realizzata soltanto veramente attraverso una filiera di dati estesa e collaborativa, cioè è veramente difficile pensare di lavorare da soli in un contesto che è così ampio, così esteso e anche così in alcuni casi difficile da agganciare in modo corretto che è quello del web. Abbiamo detto, ho parlato prima dei tenant e ovviamente quello che subito il pensiero che a noi viene è che ogni informazione, ogni entità che viene creata in qualche modo è il risultato di una collaborazione, infatti ho parlato di una sorta di cataloghi integrati, non soltanto aggregati. Il risultato di un'aggregazione, quindi del contributo di diverse istituzioni, in questo caso parliamo di ShareVD come esempio di progetto ma lo stesso avviene su ShareCatalog, lo stesso avverrà su Passifal e così via, è un unico tenant che però rappresenta un insieme di istituzioni che contribuiscono alla stessa knowledge base. Quindi ogni istituzione che collabora, partecipa alla creazione di un'entità viene definita e registrata come provenance e questo dato viene sempre mantenuto, cioè nel database si mantiene sempre la traccia del fatto che questa entità, per esempio un agente, è stato costruito col contributo di 25 università diverse dico per dire e ciascuna di loro ha contribuito in qualche modo. I tanti tenant formano questa share family e come abbiamo detto i membri della share family interagiscono attraverso questo registro centralizzato che consente di mandare informazioni tra un tenant e l'altro. Ora a guardare il risultato finale di un'entità noi ci siamo accorti che l'entità non è più una cosa piatta, è un real world object, non è più Dante Alighieri come persona catalogato in un record di authority in modo diciamo testuale e descrittivo, ma è un corpo solido, così ce lo siamo voluto immaginare, è un corpo solido ed è il risultato di tante interpretazioni, poche o tante interpretazioni diverse che provengono da diverse istituzioni. Immaginate un contesto che utilizzi alfabeti diversi, per fare il caso più semplice, io potrei avere un attributo nome descritto con un alfabeto arabo e con un alfabeto romano, ma tutte e due questi attributi si riferiscono, queste forme si riferiscono al medesimo attributo del nome della stessa entità Dante Alighieri. Quindi questa entità per noi ha preso forma proprio una sorta di prisma che è molto sfaccettato, più è larga la collaborazione nella creazione più questa entità è sfaccettata e ogni faccia rappresenta una specifica interpretazione valida, considerata una forma variante, diciamo ottenuta attraverso il contributo di una specifica o di più specifiche istituzioni. ovviamente questa ricchezza significa anche una complessità nella gestione, ma consente tante operazioni sui dati, per esempio quelle di aggiornamento, laddove ci fosse un'istituzione che modificasse l'attributo titolo di un'entità opera per esempio, noi mantenendo la relazione con la provenanza, quindi con la biblioteca il record che ha contribuito alla creazione di quell'entità, nel caso di un aggiornamento saremmo in grado di rimandare nota di qualcosa che è cambiato a quella biblioteca e a tutte le altre. Questo è soltanto un esempio appunto di come i dati contribuiscono alla creazione dei cluster, di questi tanti cluster e la caratteristica è che più i dati sono vari, più il cluster viene sfaccettato e offre di quello stesso real world object che dovete immaginarlo proprio come un oggetto reale del mondo, quindi come qualcosa che fisicamente, anche se fosse solo un concetto logico, esiste, viene tracciato nella sua ricchezza. Ovviamente la provenance in questo caso è fondamentale perché la provenance ci dice che quella interpretazione, quella specifica variante per esempio di un nome è data da uno specifico istituto, quindi non avremo più una tripla in cui diciamo che l'etichetta preferita per Luigi Pirandello è Luigi 1867-1936, ma diremo che la Labro Congress dice che l'etichetta preferita è Pirandello Luigi 1867-1936. E quindi la provenance, questo dato così importante, che cosa ci garantisce? Ci garantisce in un complesso, nella gestione complessa di un ambiente condiviso integrato, ci garantisce che ciascuna istituzione come fonte si assuma la responsabilità dei dati, quindi quello che nel mondo del web semantico non viene considerato data trust, consente alle istituzioni di condividere i loro dati in un più ampio contesto mantenendo però sempre traccia del contributo che loro hanno dato e ricevendo quindi anche informazioni su eventuali modifiche fatte a quel contributo o ad altri contributi e consente anche questo una cosa fondamentale agli utenti, siano essi utenti professionali e ricercatori così come alle macchine, di applicare filtri per la selezione dei dati da specifiche fonti di interesse. Quindi definire application profile per cui dico fammi vedere la variante di questa entità nella sua descrizione, la variante offerta dalla biblioteca Stanford rispetto alla biblioteca UPenn. e per chiudere e cedere la parola ad Alessandra, ovviamente la cluster knowledge base che è un insieme in alcuni casi ricchissimo, immaginate una cluster knowledge base prodotta da 100 milioni di record bibliografici e 46 milioni di record authority, che ricchezza informativa può avere? Ma ovviamente questa quantità viene trattata con processi automatizzati e l'attenzione vorrei che voi la poneste sul rapporto che c'è tra quantità di riconciliazione e risultato, qualità della riconciliazione. Ovviamente nei processi automatizzati abbiamo un altissimo livello di riconciliazione e di classerizzazione in termini di quantità, ma in alcuni casi un basso livello di validazione dei risultati. Al contrario, basso livello di riconciliazione e classerizzazione, ma un alto livello di validazione dei risultati. Da qui l'esigenza di un editor per la cluster knowledge base di cui adesso vi parlerà brillantemente Alessandra Moi. Grazie. Bene, io condivido il mio schermo. Vedete il mio schermo? Bene. Allora, riprendiamo quindi dalla parte diciamo relativa all'interazione manuale tra appunto la cluster knowledge base, come diceva Tiziana, e appunto gli utenti che materialmente appunto devono usufruire di questi dati. Il prossimo, diciamo, uno degli aspetti più interessanti che stanno appunto interessando il prototipo 2.0 di Share BD è incentrato proprio nel rendere possibili queste interazioni manuali tra gli utenti e la cluster knowledge base, che appunto, ripetiamo, fino a questo momento non sono rese direttamente possibili in quanto i processi di riconciliazione e creazione delle entità sono dei processi, così come appunto capita in altre fonti come il VIAF, sono dei processi totalmente automatizzati. Il J-Cricket è, diciamo, fondamentalmente un tool, quindi uno strumento finalizzato alla gestione delle entità. Perché nasce l'esigenza di strutturare, di creare uno strumento di questa tipologia? Per vari motivi che appunto sono legati alla stessa natura dei progetti della Share Family. Progetti che appunto, come abbiamo visto con Tiziana, prevedono l'aggregazione di dati che provengono da fonti diverse e in alcuni casi che sono anche strutturati secondo formati diversi, può essere il Mark 21 o anche l'Unimark, come nel caso dei progetti delle biblioteche aderenti a Share Catalog, resi poi aggregati e resi disponibili in un ambiente collaborativo. Questo ha implicato, diciamo, ha portato alla luce diverse necessità, sia nei termini appunto della cura del dato, come diceva Tiziana, ma anche nei termini di offrire effettivamente agli utenti professionali, quindi principalmente ai bibliotecari che aderiscono al progetto, uno strumento che consenta loro di agire direttamente all'interno dei dati della cluster knowledge base. Questo anche per, diciamo, consentire anche quel salto logico dalla gestione del record Mark alla gestione invece delle entità. Questo è un altro dei motivi che effettivamente hanno portato all'elaborazione del J Cricket, ovvero la volontà di passare da una visione tradizionale incentrata sulla manipolazione del record Mark, ha una più, diciamo, attuale visione in cui invece si passa alla manipolazione diretta delle entità. Il J Cricket, che tra l'altro vorrei sottolineare è il nome inglese per il grillo parlante, quindi qui c'è un riferimento anche a Pinocchio, e di fatto appunto il tool, l'editor, attraverso cui gli utenti professionali che aderiscono appunto ai progetti share possano compiere delle azioni, diverse tipologie di azioni, all'interno della cluster knowledge base. Si tratta quindi di uno strumento che offre la possibilità di applicare appunto delle attività, delle azioni di modifica, di arricchimento e come vedremo anche di schiacciamento tra entità duplicate, direttamente sui cluster della cluster knowledge base. Quindi un editor che di fatto, seppur in maniera ovviamente, come dire, semplificata per l'utente, agisce direttamente all'interno delle triple RDF, quindi permette un'interazione diretta con i dati della cluster knowledge base, dati che appunto, ripeto, fino a questo momento erano preclusi a un'interazione di tipo manuale. Per l'elaborazione del G-Cricket sono stati effettuati degli studi appositi da parte dei gruppi che appunto si occupano, sono occupati sia della modellazione, sia della modellazione ontologica di share VD, ma anche appunto degli aspetti legati alla user experience e questi lavori hanno portato alla definizione di specifici casi d'uso per poter, diciamo, identificare tutte le varie appunto azioni che gli utenti possono effettivamente compiere a partire da questo strumento. Ora il G-Cricket è appunto, ripeto, un entity editor che agisce principalmente sulle entità, diciamo, principali della modellazione ontologica di share VD, quindi parliamo delle opere, poi vedremo maggiormente la parte della modellazione ontologica, quindi appunto le opere, la parte relativa ai cosiddetti work, ovvero la parte delle espressioni e delle istanze, e poi a tutti gli agenti che sono collegati a queste entità. Nella versione prototipale di share VD in realtà vengono gestite anche altre tipologie di entità, come i luoghi, le occupazioni, le lingue, che vengono trattati, diciamo, sono qualificati come vocabolari controllati, ma che in realtà, essendo identificati da un URI, sono delle entità a tutti gli effetti, ma che di fatto, almeno in questa prima fase, non possono essere sottoposte ad azioni manuali da parte di G-Cricket. Quella, diciamo, queste entità, per così dire, di natura diversa, rispetto a quelle principali, sono, saranno ancora legate a azioni totalmente automatizzate. Ovviamente G-Cricket ha anche la funzione di garantire una più ampia interazione dei dati della cluster knowledge base con fonti esterne, che sono state appositamente identificate e studiate proprio per garantire un'ampia interazione della cluster knowledge base con tutta una serie di sistemi esterni, sia per garantire effettivamente il collegamento tra l'entità della cluster knowledge base e l'entità presenti in altri sistemi, ma anche per poter garantire proprio delle azioni, per esempio, di importazione dei dati, o anche, viceversa, di esportazione dei dati verso l'esterno. Ora, vediamo alcuni esempi sul G-Cricket. Attualmente ci sono stati elaborati, da parte sempre del gruppo che si è occupato della nuova interfaccia di ShareVD, sono stati elaborati una serie di cosetti di sketch, quindi di immagini, di immagini prototipali su G-Cricket, che ora io qui vi mostro perché si tratta di, diciamo, prototipi interattivi, ecco, immagini interattive, tramite cui è possibile vedere come verranno compiute determinate azioni tramite il G-Cricket. Il primo caso è quello di creazione di un cluster opera a partire da un'istanza, quindi si tratta di una creazione non, diciamo, totalmente ex novo, ma di una creazione che, diciamo, viene originata da un'altra azione, che è quella di eliminazione di una relazione tra un'istanza e un'opera, un original work, e di collegamento di questa istanza con un'altra opera, che viene appositamente creata. Qui noi siamo nella pagina, appunto, nella, diciamo, sì, nella pagina che in realtà rappresenta, in questo caso, un cluster di tipo opus, qui denominato come original work. Nella parte inferiore abbiamo elencate le varie pubblicazioni che sono legati, appunto, a quest'opera, e in questo caso, selezionando l'ultima pubblicazione, io ho la possibilità di aggiungere una relazione a questa determinata pubblicazione. Diciamo che, da un punto di vista del flusso logico, la prima azione sarebbe quella di cercare l'altra entità a cui voglio relazionare relazionare la mia pubblicazione, la mia istanza, non trovo nulla nel sistema e decido di, in questo caso, non legare la mia istanza a qualcos'altro che non ho trovato, ma di creare una nuova entità a cui relazionarla. L'entità può essere un'entità di tipo agent, oppure può essere un original work. Quindi io qui decido di slegare la mia istanza dall'opera a cui era originariamente legata per legarla a un'altra opera, che viene però creata ex novo, in questo caso riprendendo anche in parte i dati che sono riferiti all'opera da cui sono partita. Quindi questa è una creazione che si configura anche come una sorta di coppia, tra virgolette, dell'opera originale, a cui però posso applicare poi evidentemente le opportune modifiche. Tra l'altro qui notiamo anche la possibilità di poter aggiungere eventualmente anche identificativi esterni, così da poter qualificare maggiormente l'opera che sto andando a creare. Qui confermo. Io in questo caso la mia nuova opera creata, a cui è collegata poi l'istanza che ho slegato dall'opera precedente. Infatti questa azione mi viene anche confermata con questa notifica che la relazione è stata aggiunta e che questa pubblicazione è stata rimossa dalla precedente opera a cui era collegata. Qui eventualmente poi si può riniziare il flusso del prototipo. Una situazione simile si ha in presenza di questo secondo prototipo in cui sempre a partire da un'opera originale e sempre a partire dalla volontà di legare un'istanza a un'altra tipologia di entità scelgo non di creare un'opera originale come abbiamo visto prima, ma di creare un agent. Quindi in questo caso il flusso è leggermente diverso. Partendo dallo stesso presupposto di effettuare una nuova relazione con un'entità già esistente decido di creare sempre appunto un'altra entità, ma un'entità di tipo agent, quindi un'entità diversa rispetto a quella precedente. Qui viene proposta una scheda, un insieme di attributi vuoti che poi appunto possono essere opportunamente valorizzati dal bibliotecario, dal professionista che sta effettuando questa azione e eventualmente poi applicare tutta una serie di azioni anche di appunto modifica sulle relazioni precedenti. E infine confermare anche qui l'azione di creazione in cui ho appunto il mio nuovo agent John Du collegato poi alla pubblicazione da cui ero originariamente partita. Infine, il terzo esempio che qui abbiamo scelto è quello relativo, forse una delle casistiche più frequenti all'interno del lavoro di bibliotecario, quello di schiacciamento di entità duplicate. Come diceva prima Tiziana, una delle necessità che sono emerse in questi anni di lavoro all'interno dei progetti della ShareFamily è quello appunto di migliorare anche qualitativamente i dati della cluster knowledge base che appunto dipendono principalmente da azioni di tipo automatico. Molto spesso gli algoritmi di riconciliazione sia per motivi di tipo tecnico oppure anche in seguito a dati non propriamente chiari nelle fonti di origine portano a una sorta di moltiplicazione dei cluster all'interno della cluster knowledge base e per questo motivo quel G-Cricket sarà particolarmente utile ovviamente per risolvere queste situazioni. In questo caso io ho dei due entità in questo caso che voglio appunto schiacciare a cui posso poi ricondurre questa azione in questo caso l'azione di schiacciamento presuppone una prima visualizzazione dell'azione che appunto mi consente anche di fare delle valutazioni se effettivamente quell'azione può essere o meno compiuta e poi posso applicare anche delle azioni di modifica all'interno delle relazioni che questi due work schiacciati avevano appunto in origine. in realtà il prototipo è in questo quella visualizzazione qui è statica quindi non posso mostrare effettivamente le varie azioni effettive che devono essere compiute però si parte comunque da una da una visualizzazione di questo tipo. Come ho detto inizialmente il J Cricket garantirà anche l'interazione con tutta una serie di fonti esterne che sono state appositamente scelte. Ovviamente noi sappiamo che all'interno della filosofia del semantic web e di LinkedIn Open Data la possibilità di collegare tra loro dataset diversi è uno degli aspetti diciamo assolutamente imprescindibili. Il meccanismo cosiddetto dell'interlinking tecnicamente appunto detto dell'interlinking come sappiamo consente di creare sia dei collegamenti identitari tra le varie fonti quindi stabilire che la mia che la mia entità è la stessa entità presente in altre fonti ma è anche un meccanismo che consente di garantisce ecco quella riusabilità del dato che è di fondamentale importanza. Quindi riusare dati che sono effettivamente già presenti all'interno del web ed evitare così una sorta di ridondanza dei dati stessi. Sulla base di queste due esigenze sono state appunto selezionate tutta una serie di fonti con cui il J Cricket dovrà in futuro colloquiare. Sono fonti principalmente di ambito bibliotecario io qui ve ne ho elencato solo alcune via, Fisni, Wikidata ma ce ne sono anche altre ovviamente tutte le fonti di autorità della Library of Congress e il G&D e anche altre per esempio come i vocabolari del Ghetti che non sono propriamente di ambito bibliotecario ma sono afferenti diciamo all'intero contesto dei beni culturali. Per ciascuna fonte poi è stata fatta proprio un'analisi uno studio apposito per individuare quali strumenti queste fonti mettono a disposizione per garantire l'interoperabilità verso l'esterno e soprattutto in quale maniera ci si può rapportare a queste fonti. questo perché effettivamente non tutti i dataset esterni garantiscono lo stesso livello di interoperabilità. Per fare un esempio concreto il VIAF garantisce lo scarico completo del suo dataset il cosiddetto Dump scarico che permette a un progetto come appunto può essere quello della della ShareFamily di importare i dati del VIAF all'interno tuttavia per la sua stessa natura il VIAF non permette azioni di interazione diretta in altre parole non è possibile attraverso un tool esterno come il J-Pricket non è possibile per esempio intervenire direttamente nei dati del VIAF e apportare azioni di modifica di schiacciamento di arricchimento. Caso molto diverso è quello degli ISNI che invece ha tutta una serie di tool per esempio un set di API molto ben documentato è anche un'apposita interfaccia web che garantisce a utenti esterni di poter intervenire materialmente i suoi dati dell'ISNI e quindi di poter diciamo applicare delle azioni manuali. Tuttavia queste azioni sono rese possibili solamente per quelle biblioteche che aderiscono materialmente al progetto ISNI quindi che sono effettivamente autorizzate. tutte queste differenze ripeto sono state opportunamente analizzate per capire quali erano i punti diciamo di forza di ciascuna fonte e quali erano gli strumenti che potevano essere utilizzati in questo senso. Per quanto riguarda l'interazione con Wikidata che è quello che diciamo ora ci interessa di più Wikidata ovviamente come sappiamo essendo un progetto aperto e collaborativo consente non solamente di creare dei collegamenti tra le entità di del proprio progetto con gli item appunto di Wikidata ma consente anche di effettuare tutta una serie di azioni dirette sul proprio dataset per questo motivo Wikidata mette a disposizione un diverso diversi strumenti e diciamo la nostra specifica attenzione si è concentrata sulle API fornite da MediaWiki di cui vi ho indicato il link di riferimento API che garantiscono tutta una serie di azioni di interazione con i progetti Wiki e ovviamente anche con Wikidata sulla base di questo elenco abbiamo fatto ovviamente una selezione di API che sono diciamo più rispondenti alle nostre alle nostre esigenze si tratta nello specifico di API finalizzate ad azioni di ricerca nel dataset di Wikidata tra l'altro secondo vari criteri e modalità perché le API di MediaWiki sulla ricerca sono differenziate a seconda dei criteri adottati per la ricerca si tratta di azioni di autenticazione quindi attraverso un'apposita API il J-Tricket sarà capace non solo di effettuare delle ricerche su Wikidata ma anche di garantire l'autenticazione degli utenti e poi ovviamente di editing degli item quindi di modifica e anche di schiacciamento tra item duplicati ripeto questo a partire sempre da uno strumento esterno come il J-Tricket che tramite le API fornite da MediaWiki consentirà di effettuare queste azioni senza passare diciamo dall'interfaccia web di Wikidata anche per questo specifico studio sono stati realizzati in questo caso degli sketch non dinamici e si tratta delle semplici immagini con cui è stata fornita una prima possibile visualizzazione di questa funzione avanzata diciamo del J-Cricket nel primo caso abbiamo uno sketch relativo a un cluster di tipo person in cui nelle azioni che possono essere compiute tramite il J-Cricket abbiamo anche l'azione di connessione degli ID esterni tutti in questo caso ovviamente intendendo tutti gli ID esterni di fonti considerate ovviamente come interessanti all'interno del nostro progetto nella seconda immagine abbiamo un dettaglio sempre relativo allo stesso cluster persona person in cui possiamo notare come un apposito tab relativo appunto a questo cluster sono elencati tutti i vari identificativi associati a questa specifica entità di OCLC del VIAF della Library of Congress e infine anche di Wikidata con la possibilità di accedere direttamente all'entità all'interno di queste fonti nel terzo caso invece abbiamo una simulazione della ricerca ovvero a partire dalla ricerca per stringa viene effettuata un'interrogazione su una serie di fonti esterne che poi mi restituiscono dei potrebbero insomma dipendere ovviamente da come viene effettuata la ricerca e dei criteri mi restituisce comunque i possibili match le possibili rispondenze all'interno di queste fonti nel caso di Wikidata abbiamo in questo caso un elenco di risultati che appunto fanno riferimento ad item presenti in Wikidata di cui poi mi viene fornito anche il dettaglio nella parte destra dello schermo con questa finestra che ripropone le informazioni associate a queste entità in Wikidata e infine la possibilità di collegare questo item di Wikidata all'entità della cluster knowledge base da cui sono partito questo è una invece un'immagine di dettaglio della visualizzazione dell'item in di Wikidata ma all'interno del jcricket quindi a partire da un'azione di ricerca come quella precedente posso poi effettivamente entrare all'interno dell'item a partire appunto dal jcricket ed effettuare una serie di azioni sulle varie proprietà presenti in Wikidata qui vorrei far notare anche il fatto che venga riproposto in questa appunto in questa visualizzazione l'articolazione dei dati che è propria in Wikidata quindi il primo tab con i nomi e gli alias il secondo con quella delle dichiarazioni il terzo quello degli identificativi e il quarto quello dei link di collegamento ad altri progetti wiki nello specifico a partire dalle dichiarazioni in questo caso ho scelto questo questo tab per mostrare come l'esempio di visualizzazione a partire appunto da questi vari vari tab è possibile poi effettuare delle modifiche delle azioni di modifica alle informazioni che provengono da Wikidata e la quinta immagine ci mostra proprio questo una possibile modalità di modifica di una dichiarazione di Wikidata modifica che può essere sia di manipolazione di dati già presenti oppure anche di aggiunta di qualificatori e di fonti di fonti di reference le azioni poi come ho detto prima vengono poi riverberate vengono pubblicate su Wikidata in questa interazione diretta tra il J Cricket appunto e il dataset di Wikidata e infine l'ultimo l'ultima immagine è quella relativa alla possibilità di effettuare degli schiacciamenti tra item di Wikidata all'interno del J Cricket quindi qui ho due QID questo e questo in questo caso selezionando i due QID e poi conformando l'azione viene effettuata viene effettuato appunto un merge vero e proprio che poi viene anche in questo caso applicato anche i dati all'interno di Wikidata qui abbiamo anche la possibilità di visualizzare una preview quindi un'anteprima dell'azione ovviamente anche per valutare l'impatto dell'azione stessa ora questa volontà di questa diciamo interazione così spinta tra virgolette con con Wikidata pone delle problemi non secondari non solo a livello diciamo prettamente tecnologico ma anche a livello concettuale questo perché Wikidata ha un'impostazione diciamo ontologica profondamente diversa da quella invece diciamo contemplata all'interno dei progetti della Share Family come ha detto Tiziana in precedenza la modellazione ontologica di Share VD e di tutti gli altri progetti è principalmente incentrata su Big Frame che appunto rimane l'ontologia di riferimento sulla base di Big Frame poi i vari gruppi hanno fatto tutta una serie di attività di rimodellazione e di adeguamento del modello Big Frame a esigenze diciamo specifiche che poi adesso vedremo tra poco nonostante appunto queste diciamo queste questo adattamento di Big Frame si tenta sempre di mantenere l'allineamento con l'ontologia principale e si tenta anche di mantenere sempre una corrispondenza con altre modellazioni importanti dell'ambito bibliotecario come per esempio quelle legate al contesto IFLA per esempio IFLA e anche in questo caso ricordiamo che l'avvicinamento al contesto IFLA sta avvenendo anche attraverso quelle attività di conversione e di mappatura dell'Unimark a Big Frame anche in questo caso di cui Palato Tiziano in precedenza ora la modellazione di Sherby che in questo caso è riproposta in associazione a Big Frame e a IFLA l'RM è basata per quanto riguarda le entità principali dell'universo bibliografico in tre livelli gerarchizzati l'opera il work e l'istanza in questo caso il livello dell'opera corrisponde in maniera abbastanza simile a quello del cosiddetto work all'interno di IFLA e l'RM mentre bisogna dire si discosta in parte dal concetto di hub proposto da Big Frame che invece non viene considerato come un'opera capostipite vera e propria ma costituisce una sorta di aggregazione di work intese in questo caso come expression certamente la differenza più importante anche a livello di modellazione tra questi due tra questi tre modelli è proprio il livello intermedio del work in cui si ha anche una differenza terminologica abbastanza sostanziale con IFLA l'RM che ripropone il termine expression sulla base appunto del modello precedente per RBR e Big Frame e Sherby che invece presentano i livelli intermedi del work infine il livello della manifestazione dell'istanza che invece fa riferimento diciamo alla pubblicazione quindi anche costituisce una prima materializzazione effettiva rispetto ai precedenti due livelli che come sappiamo sono quelli maggiormente astratti ripeto nonostante le differenze diciamo sia terminologiche che in parte concettuali comunque si cerca sempre di mantenere un allineamento e quindi un'interoperabilità tra i tre diversi modelli ora questa modellazione è difficilmente riproponibile in un contesto come quello di Wikidata Wikidata che ricordiamo nasce per esigenze completamente diverse da quelle invece dei progetti share ovviamente Wikidata nasce come hub di dati provenienti appunto da vari progetti del mondo wiki e soprattutto si è sviluppato per volontà e anche sulla spinta di diciamo comunità che non sono solamente quella bibliotecaria ma che sono appunto comunità diverse e che ovviamente hanno modellato anche Wikidata sulla base di esigenze proprie e per questo motivo che Wikidata ha fondamentalmente un'articolazione ontologica semplificata e diciamo anche concettualmente diversa rispetto a quella proposta all'interno del progetto share ora vado un attimo avanti qui vi ho proposto una confronto sulla falsariga di quello precedente tra il modello ontologico di share vd e il modello ontologico di Wikidata che presenta appunto delle differenze notevoli la prima è certamente quella relativa all'opera entità opera che in Wikidata è diciamo variamente tipizzata nel senso che non esiste una gli item solitamente non vengono qualificati come opere in senso generale ma sono individuati come opera letteraria come opera scritta come opera musicale e con altre tipologie ancora quindi una delle sfide più interessanti sarà proprio di saper individuare all'interno di Wikidata quali sono effettivamente le opere intese nel diciamo secondo il concetto che noi abbiamo di opera all'interno di servidi e quali invece non lo sono invece tra l'altro scusate un'altra degli aspetti più problematici delle opere che in Wikidata spesso le opere sono qualificate da informazioni che non fanno parte propriamente dell'opera questo è un aspetto di cui tra l'altro è stato già di cui per esempio Carlo e Stefano avevano già parlato in un precedente incontro ovvero il fatto che appunto in Wikidata a volte le opere hanno delle informazioni come gli sbn la data e il luogo di pubblicazione che appunto noi non associamo comunemente all'opera quindi anche questo aspetto è da valutare la seconda il secondo problema che forse è anche più insidioso del primo è relativo al fatto che in Wikidata non esiste un livello che può essere assimilato al work e all'instance quindi all'espressione e alla manifestazione per usare i termini di IFRM ma esiste un unitario livello che è quello dell'edizione edizione che ricomprende in sé sia attributi come per esempio la lingua che è tradizionalmente associata appunto all'espressione barra work e altri dati come il luogo di pubblicazione e la data che invece fanno riferimento all'istanza e quindi alla manifestazione in questo caso appunto vediamo nel modello come i due livelli siano ricondotti in un unitario livello che comprende dati riferiti a entrambe le entità infine l'ultimo aspetto particolarmente interessante è costituito dal fatto che il livello dell'item quindi della coppia fisica sia praticamente assente all'interno di wiki data solitamente il livello della coppia fisica viene espresso solitamente come esemplare come ho inserito qua e fa riferimento a determinate tipologie di risorse e in particolar modo manoscritti incunaboli o altre risorse di questa tipologia ovvero risorse che solitamente hanno tutta una serie di dati particolarmente significativi e molto strutturati relativi per esempio al possesso quindi i possessori alle notte agli ex libris oppure informazioni riguardanti gli enti e le organizzazioni preposte alla loro conservazione e a cui spesso è associata anche un'immagine quindi tutta una serie di si tratta di informazioni particolarmente complesse che necessitano la creazione di un'entità a tutti gli effetti in wiki data sostanzialmente non si hanno diciamo entità di tipo coppia così come sono comunemente intese le coppie nei cataloghi di biblioteca ovvero le coppie solitamente hanno delle informazioni minimali sulla collocazione e sui dati relativi all'accesso e l'afflizione quindi anche questo aspetto particolarmente interessante per capire come sfruttare anche in questo caso la ricchezza relativa agli esemplari in wiki data all'interno di Sherby io in questo caso ci terrei a fare una precisazione questi punti che io ho elencato non vogliono essere una come dire una critica verso la modellazione di wiki data wiki data è nata per esigenze diverse non deve essere intesa come una replica come una replica diciamo dell'organizzazione dei cataloghi o di progetti comunque nati all'interno dell'ambito bibliografico wiki data una sua natura di cui però bisogna essere ovviamente consapevoli per poter garantire al meglio quell'interoperabilità di cui si è parlato prima ora questo aspetto della modellazione assume invece dei connotati molto interessanti in relazione alla gestione dei soggetti soggetti che in share bd sono attualmente in fase di implementazione e per cui è stata proposta una modellazione abbastanza diciamo complessa ma molto stimolante in primo luogo i soggetti sono associati a livello del work quindi a livello dell'espressione questo può essere diciamo può risultare un po' strano ma in realtà è stato frutto di un'analisi di uno studio approfondito da parte del gruppo preposto alla modellazione della cluster knowledge base che è il 6 e a ogni work viene poi associato un soggetto i soggetti sono trattati all'interno della cluster knowledge base come delle entità tutti gli effetti individuati da un proprio URI questi soggetti corrispondono a delle stringhe complesse quindi qui abbiamo nell'esempio il work 1 a cui è associato questa entità soggetto che comprende l'intera stringa composta da Carlo Lewis Resbury Ellis in Wonderland e 1865 tuttavia all'interno di ciascuna stringa vengono poi individuati i singoli concetti ovvero vengono individuati tutte le singole diciamo stringhe che fanno riferimento a delle entità ben precise per essere più specifici nel caso del soggetto legato al work 1 ripeto il soggetto è qualificato come entità a sé stante ma analogamente come entità è qualificato anche Carlo Lewis che è un agent da Resbury che è un place Ellis in Wonderland che è un'opera e infine il 1865 che è una data siano in questo caso diciamo due diversi livelli uno più globale che comprende in sé l'intera stringa di soggetto e poi un livello diciamo un livello sottostante che invece prevede la gestione autonoma dei singoli concetti come entità entità che sono ricondotte alla loro tipologia effettiva ecco qui abbiamo un altro esempio con tre diversi work di cui vengono indicati tre diversi soggetti collegati composti da stringhe più o meno complesse e in cui i vari pezzetti della stringa quindi i vari concetti sono poi a loro volta individuati come entità sessanti qui possiamo notare per esempio che il 1865 che appunto è la parte relativa alla data è qualificato con un URI comune che ovviamente ricomprende tutte e tre le date indicate nelle tre diverse stringhe perché di fatto questa è sempre la stessa entità che quindi viene individuata all'interno di Sher con un unico URI stessa cosa si può dire per le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie sia del soggetto 1 che del soggetto 3 che appunto sono appunto ricondotti a un'unica URI in quanto fanno riferimento alla stessa opera e infine anche tutte le altre parti gli altri concetti sono ricondotti alla loro tipologia e correttamente gestiti ora in questo caso noi abbiamo diciamo abbiamo associato questo sistema a una diciamo gestione che unisce in sé le prerogative che sono proprio dei sistemi precoordinati e quelle le prerogative invece che sono proprio dei sistemi postcoordinati questo perché di fatto la gestione dei soggetti in Sherby D unisce questi due aspetti queste due impostazioni ecco da un lato abbiamo la gestione unitaria del soggetto inteso nella sua stringa complessa che ci permette tra l'altro di riconciliare i soggetti di Sher con per esempio le CSH e altri sistemi che si basano su un'infrastruttura simile ma d'altra parte la gestione dei concetti singoli e quindi delle singole entità permette non solo di qualificare i singoli elementi appunto come entità ma permette anche di usufruire della ricchezza informativa di fonti come il FAST e Wikidata che si basano su un sistema simile e questo è appunto la parte che ci ha diciamo colpito di più ovvero questa somiglianza concettuale con Wikidata in cui io ho proposto un analogo esempio con un item 1 e un item 2 che sono collegati a dei a dei termini di soggetto che in Wikidata sono espressi dalla proprietà P921 che fa riferimento all'argomento principale in questo caso ciascun item per ciascun item si possono indicare uno o più argomenti principali creando di fatto una relazione tra l'item e l'argomento che è trattato diciamo come un'entità a tutti gli effetti questo questo collegamento indica un verbo più link tra l'item 1 e l'opera Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie infatti qui abbiamo anche i QID che qualificano queste varie stringhe che di fatto sono trattate in Wikidata come dei dell'entità a tutti gli effetti in questa articolazione si hanno delle notevoli somiglianze con la strutturazione appunto per concetti che abbiamo in ShareVD che sicuramente ci sarà molto utile poi nelle future attività di implementazione dei dati di Wikidata e Share e anche per una possibile evoluzione del G-Cricket che magari potrà prevedere anche l'interazione diretta anche per queste altre tipologie di entità ora finora abbiamo visto ciò che ci aspetta nel prossimo futuro sia in termini di in generale di possibilità di azione all'interno della cluster knowledge base ma anche possibilità di interazione con le fonti esterne tuttavia soffermandomi in maniera più specifica sul mondo wiki vorrei anche a conclusione di questo discorso parlare di alcuni aspetti che in realtà esistono già all'interno dei nostri progetti e che fanno riferimento a diverse modalità di interazione con i progetti wiki non solo con Wikidata il primo riguarda la gestione delle piattaforme e in particolar modo la capacità all'interno appunto dei progetti della share family di poter recuperare determinate informazioni da Wikipedia questo appunto è un aspetto che è già presente nelle piattaforme attuali poi vedremo alcuni esempi e che ovviamente è stata riproposta anche nella versione produttivale 2.0 da Wikipedia solitamente vengono tratte tutta una serie di informazioni che sono la fotografia e la descrizione dell'entità in maniera tale da poter arricchire effettivamente le informazioni associate ai cluster in particolar modo si tratta dei cluster agent quindi degli agenti e delle opere come viene effettuato questo recupero sia nella versione attuale che nella versione produttivale il meccanismo è rimasto praticamente inalterato si procede al recupero degli ID di Wikidata e al suo salvataggio quindi al salvataggio degli ID di Wikidata nel database solitamente gli ID di Wikidata viene recuperato già in fase di clusterizzazione a partire dal VIAF che è la fonte primaria che viene usata nei processi di clusterizzazione a partire appunto dal salvataggio degli ID Wikidata viene poi effettuata un'apposita query che si basa su un'API specifica che interroga Wikipedia questa interrogazione viene fatta a un fly ovvero nel momento in cui io seleziono un determinato cluster viene effettuata sul momento una chiamata Wikipedia e sulla base appunto degli ID di Wikidata viene effettuato il recupero della fotografia e della descrizione associata ai cluster ora qui abbiamo alcuni esempi che però preferisco mostrarvi nei sistemi veri propri questo è un esempio di Share Catalog in cui appunto ho l'entità Shakespeare William in cui la foto e la descrizione biografica all'atto provengono appunto da Wikipedia con la possibilità poi di accedere effettivamente alla descrizione completa all'interno appunto di Wikipedia stesso l'altro esempio invece riguarda la nuova piattaforma che per cui ripeto il meccanismo è sempre lo stesso ma che ovviamente ha un impatto grafico molto diverso qui abbiamo sempre la foto la descrizione biografica con possibilità analogamente di rimando alla pagina di Wikipedia e infine anche questo stesso meccanismo applicata a un'opera ora l'ultimo punto che appunto riguarda sempre l'attuale interazione che abbiamo con il mondo wiki quindi riguarda analogamente dei sistemi che sono già in uso è relativo all'utilizzo dei dati nel caso delle piattaforme è stata di un'integrazione diciamo comunque esterna nel senso che il sistema recupera delle informazioni ma il dato non viene integrato nella cluster knowledge base in questo per quanto riguarda invece l'utilizzo diretto dei dati senza dubbio l'esempio più importante diciamo l'attività più significativa che è stata fatta da questo punto di vista è stato l'utilizzo di appositi data set di wiki data per la creazione di vocabolari controllati all'interno della versione produttipale di share 2.0 come vi ho detto rapidamente prima in share vd oltre alle entità diciamo più principali del modello esistono anche tutta una serie di entità che fanno riferimento a degli specifici vocabolari controllati che sono stati generati a partire da fonti ben precise una delle fonti è stata appunto wiki data e sulla base appunto della tipologia di vocabolario controllato è stato fatto un apposito scarico tramite lo strumento we dumper che è uno strumento molto utile che è wiki data mette a disposizione e che ci ha permesso di poter appunto generare diversi vocabolari controllati tra cui quello dell'occupation che viene utilizzato per indicare attraverso dei termini controllati di occupazioni per le persone e come vocabolario diciamo di supplemento come pardon come fonte di supplemento anche per i vocabolari delle lingue e dei luoghi parlo di supplemento perché in realtà le lingue e i luoghi sono stati originati da altri vocabolari controllati come il mark list for languages e il NAF per i luoghi geografici ma wiki data lo scarico di wiki data i dati scaricati da wiki data verranno poi integrati per poter arricchire questi vocabolari controllati a conclusione vorrei citare un progetto un'attività molto importante che il gruppo di Claudio Forziati sta portando avanti in queste settimane ovvero quello di utilizzare i dati di wiki data per poter operare delle azioni di pulizia sistematica all'interno della cluster knowledge base in altre parole il gruppo il neonato gruppo cercata lo wiki data si occupa di effettuare tutta una serie di analisi a partire da apposite query effettuate su wiki data che poi consentono di individuare le duplicazioni all'interno della cluster knowledge base di share catalog e quindi di poter arrivare a una maggiore controllo qualitativo della appunto della ckb in questo caso vi ho elencato rapidamente i passaggi operativi che sono stati fatti la prima fase è stata curata da Claudio che ha caricato su mix and match i due cataloghi relativi agli autori di share catalog ovviamente come sappiamo mix and match effettuato poi una serie di associazioni automatizzate che sono poi state confermate da attività manuali sia da parte di Claudio che da parte di altri utenti e attraverso questa associazione tra di di share catalog e le entità all'interno di wiki data sono state fatte degli appositi e query che hanno permesso di individuare quegli item di wiki data a cui erano associati più cluster id ovviamente in questo caso la logica conseguenza è che in share catalog ovviamente erano presenti delle duplicazioni in riferimento a quell'entità e dunque si è passati a un'attività congiunta di analisi delle casistiche e poi attualmente di pulizia manuale dei cataloghi da parte dei catalogatori di share catalog bene noi in questo caso io mi fermerai qui anche perché ho visto che è un po' tardi ecco vi ringrazio per l'attenzione intanto che aspettiamo di vedere se c'è qualche domanda intanto voglio complimentare per la presentazione che è stata veramente efficace chiara molto ricca piena di spunti e io ho anche un sacco di domande ma il tempo è scarso per cui se c'è qualcun altro che vuole fare delle domande lascio volentieri la parola tra l'altro anche se siamo andati oltre il tempo nessuno si è mostro tranne chi proprio doveva andare tutti sono rimasti fermi qua a dimostrazione della validità della rappresentazione e dell'interesse che c'è insomma anche perché credo che siano appunto il progetto questo lo volevo dire già da subito il progetto il quadro in cui si presenta questo progetto sarebbe le iniziative lodevoli a livello nazionale ma qui stiamo parlando invece di un'iniziativa che è nazionale ma che è lodevole a livello internazionale chiaramente compreso che si sia capito non so se a livello nazionale Tiziana Alessandra il rapporto con SBN che ha cambiato recentemente molte cose ha un certo la possibilità di interagire mi capisci voglio dire vedi qualche vedete qualche possibilità allora Stefano noi ovviamente sì dimmi dimmi dunque come politica noi cerchiamo di agganciare quante più fonti autorevoli o di settore siano disponibili ad essere agganciate quindi assolutamente è uno degli obiettivi ultimamente proprio su segnalazione di Claudio mi sembra Claudio non vorrei sbagliare abbiamo stiamo elaborando tutte le procedure di aggancio a IDREF che è una fonte francese anche quella autorevole e quindi assolutamente nessuna preclusione lato soggetti abbiamo ovviamente utilizzato e già integrato molte fonti internazionali ma l'obiettivo prossimo è quello del nuovo soggettario noi abbiamo una gran moglia di dare anche una faccia nazionale a proposito della sfaccettatura a questo progetto innanzitutto perché rivendichiamo proprio come dire l'italianità del progetto cioè noi siamo proprio orgogliosi che un progetto nato in Italia e in particolare nelle biblioteche del sud Italia abbia attirato l'attenzione di tanti americani prima di tutto diciamo di quelle istituzioni un po' anche un po' snobbe in alcuni casi che hanno si sono appassionate a questo progetto e ovviamente è un progetto che cresce e dove il contributo non è mai solo economico anzi direi che la parte più importante è questo tutte le persone che sono qui e che hanno avuto modo adesso vedo Nicola ho visto Maria Grazia Ronca prima cioè tutte le persone che hanno avuto modo di in qualche modo entrare a contatto capiscono che la parte veramente più preziosa è quella scientifica perché quello dei link data è ancora un ambito molto scivoloso in termini di cose già definite no dalla terminologia che sappiamo e non la tocchiamo qui la cosa dalla terminologia che apre grandi discussioni su quali siano i termini giusti alla necessità di trovare logiche algoritmiche per partire da un dato tradizionale a prodare un dato che di quel dato ha solo il contenuto quindi Stefano qualsiasi iniziativa ha maggior ragione perché italiana ci riaggancia all'Italia e noi lo facciamo con orgoglio perché di questo ne sono convinta e vedo il professor delle donne non mi sento di non ringraziarlo personalmente per averci dato 5-6 anni fa quando era nel 2015 forse l'opportunità di realizzare un progetto che forse allora era ancora tutto sulla carta e avendo il professor delle donne in particolare la visione di quello che poteva essere un'iniziativa che integrasse cataloghi anche molto diversi nel caso di Share Catalog abbiamo anche cataloghi in Unimark e cataloghi in Mark 21 formati diversi tradizioni catalografiche diverse quindi la risposta è proprio sì sì qualsiasi cosa che venga a maggior ragione dall'Italia noi siamo felicissimi di incontrarla integrarla io dico una cosa che la butto lì volendo integrare con l'Italia e tenendo conto che alla fine uno dei prodotti diciamo così centrali di tutto il sistema è questa knowledge base e che nella knowledge base vengono presentati appunto non soltanto degli oggetti quelli che una volta potremmo chiamare oggetti biografici oggetti di interesse biografico ma degli oggetti del mondo reale hai detto tu Tiziana non potrebbe non si può pensare o non avete pensato a integrare anche dati non bibliografici non di provenienza bibliografica penso che il problema si ponga in termini di ontologia un po' come si pone con Wikidata però la curiosità è ci avete pensato o è troppo ancora di là ad avvenire no no questo è il progetto vuole essere anzi per questo preferiamo chiamarlo un'iniziativa perché ne deve aggregare diversi di progetti è proprio aperto anzi nasce come un'iniziativa cross domain l'esempio più classico se ho capito la tua domanda Carlo è nel trattamento dei luoghi nel trattamento dei luoghi perché le informazioni bibliografiche largamente utilizzano il luogo perché è il luogo di nascita è il luogo di pubblicazione allora nel trattamento dei luoghi qual è la scelta più opportuna probabilmente quella di agganciare fonti che originariamente con il contesto bibliografico non hanno nulla a che fare tipo geonames e questa è già quello che stiamo facendo quello che prima Alessandra diceva come una cluster knowledge base sempre più ricca di entità è sempre più ricca di entità che non necessariamente nascono in un contesto specificatamente biblioteconomico ma che nascono in altri contesti e che sono però riutilizzabili nell'ambito biblioteconomico quindi noi stiamo cercando veramente di considerare il mondo della cluster knowledge base come fatto di appunto real world object dove il real world object è un qualcosa che è spendibile allo stesso modo a prescindere dal contesto di utilizzo a prescindere dal dominio questa è diciamo un po' uno dei fondamenti dell'iniziativa e del progetto scusa Tiziana su questo tra l'altro abbiamo per quanto riguarda le fonti tra l'altro ne abbiamo gestito anche le fonti del ghetti che non sono tradizionalmente fonti di ambito bibliotecario ma sono fonti appunto legate alla storia dell'arte all'archeologia e che tra l'altro hanno visto diciamo sono state rese così interoperabili con i nostri progetti per un altro progetto che non fa parte della share family che è stato Vasari in cui abbiamo per la prima volta abbiamo affrontato il problema dei beni culturali con l'ontologia arco e tutti i vari problemi e anche concettuali che sono nati con Vasari mi riferivo anche a questo a quello che ha detto Tiziana e anche perché il gruppo diciamo che ospita oggi si chiamerebbe gruppo Wikidata Musei Archivi Biblioteche era in questa diciamo così in questa ottica anche che cercavo di di il progetto Carlo il progetto di cui parla Alessandra questo progetto Vasari che è un progetto prototipale che è nato come capofila ora io ti cito soltanto l'Università Statale di Milano perché è stato un po' la capofila dell'intero progetto ma dentro ha raccolto diverse istituzioni sia pubbliche che private e lo scopo era quello proprio di mettere su un workflow di lavorazione e pubblicazione dei dati dedicato all'ambito del turismo quindi che prescinde molto da un singolo dominio neanche solo ed esclusivamente museale ma tutto ciò che in qualche modo possa accompagnare un percorso turistico in questo ambito e qui mi riaggancio anche allo stimolo venuto da Stefano in questo ambito l'ontologia arco che viene dai ccd quindi che è di un dominio specificatamente nato per biblioteche per musei ma forse neanche non è solo per musei perché in realtà è sito archeologico insomma un dominio molto diverso ovviamente ha costituito una sfida perché noi abbiamo dovuto modellare quegli strumenti che nascevano avendo ben chiari i dati i modelli dati delle biblioteche che insomma per noi sono molto familiari ma proponendo un modello completamente diverso con una sfida di modellazione che è veramente importante per esempio il dubbio se un'anforetta un'anforetta che tu trovi in migliaia di esemplari in tutti i siti archeologici italiani e non sia considerabile come un'opera oppure come un expression oppure come un singolo item ovviamente e te lo poni perché noi abbiamo un approccio mentale che FRBR ci ha molto aiutato a insomma sciogliere no perlomeno ci ha dato un quadro di riferimento quando vai sul museale sull'archeologico questi modelli un po' fanno acqua quindi ti devi adattare a un modello di che cosa è un'anforetta descritta poi spesso come anforetta secolo X basta e quindi insomma ci troviamo su questa stessa iniziativa a lavorare o con una mole di dati enorme per cui ti vengono scaraventate addosso milioni di informazioni oppure con fonti che sono ai nostri occhi molto povere come sono quelle dei siti archeologici dei musei che hanno l'interesse di descrivere il singolo pezzo e quindi è una sfida molto interessante e il prossimo che vorremmo approcciare è proprio il mondo degli archivi perché noi siamo partiti questo la piattaforma tecnologica prende corpo da un progetto europeo iniziale che aveva come base di partenza proprio i tre domini biblioteche archivi e musei e in quell'ambito fu utilizzato sidoc.crm per gli archivi da lì si partì scegliendo poi ontologie per il dominio museale e per il dominio biblioteconomico per questo lo strumento di conversione è così flessibile ed è fatto da micro pezzi perché tu devi avere la capacità con poco non con pochissimo ammetto perché sembra più facile a dirsi ma poi a farsi di rimodellare il tool per accettare dati che possono essere anche molto diversi Alessandra ha messo qui il link forse a Vasari sì è il link del progetto sì sì e l'ho aperto nel frattempo ce l'ho qui davanti ma non mi sono distratto volevo ascoltarti ce l'ho lì e dopo lo guardo per esempio ci sono altre domande un'altra cosa sì prego prego Alessandra Alessandra no allora mentre Alessandra non so se vuole intervenire e riflette aggiungo solo un altro piccolo particolare nel progetto Cubicat che mette insieme questi istituti sulla storia dell'arte tra cui Lerziana un altro quello lì i nomi non me li ricordo quello localizzato a Firenze uno a Parigi e uno a Monaco ovviamente lì uno stimolo diverso perché lì hanno molte fototeche e quindi anche lì un nuovo modo di trattare dati che con quelli della biblioteca hanno veramente poco a che fare ma su questo si è aperto come ve l'ho citato prima un nuovo tavolo di analisi per analizzare cosa il materiale fototeca mette a disposizione anche proprio come sfida di modellazione e di integrazione con fonti diverse vediamo se c'è qualche domanda qui nessuno va via siamo sempre 24 nessuno si muove mi fa piacere io intanto faccio una domanda aspettando che qualcun altro le faccia io infilo le mie ne ho una in particolar modo per Alessandra sul discorso dei soggetti e dicevi che la gestione dei soggetti l'intera stringa viene collegata a livello dell'opera e lì mi è venuto il dubbio di aver capito bene oppure no di quale opera stiamo parlando di FRBR di Frame o Share no 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 ecco questa è la questione terminologica di cui diceva Tiziana che è spesso scicolosa ho scritto opera ma mi sono messo un punto di domanda no no in realtà sicuramente tu hai scritto opera perché è la traduzione diciamo di work ma in realtà sia nelle slide ma anche quando ho parlato ho parlato di work che per noi non è il livello dell'opera ma è il livello diciamo che corrisponde all'espressione esatto un po' più basso esatto sì il work in Lib Frame è proprio in realtà in Lib Frame è un po' un livello ibrido tra l'espressione e quella che per noi è l'opera siccome per BB Frame diciamo l'entità work in pratica permette di generare un'entità sulla base anche della formulazione linguistica quindi noi ci trovavamo inizialmente con dieci divine commedie una in inglese una in francese una in tedesco alla fin fine il gruppo del sei dopo diverse discussioni ha deciso di stabilire diciamo un livello superiore che è appunto quello che corrisponde all'opera in IFLRM quindi un po' un meccanismo complicato anche da un punto di vista il soggetto lo prende la divina commedia a prescindere dalla lingua o eventualmente nella lingua originale o avete un soggetto distinto per ogni no no il soggetto viene preso così come viene espresso esattamente nei tag di soggetto quindi la stringa complessa per esempio corrispondente non so un 600 nel record bibliografico viene clasterizzato così com'è quindi con l'intera stringa gli viene associato un uri e poi viene attribuito a livello del work a livello dell'espressione diciamo è stato proprio scelto di non metterlo a livello dell'opera in questo caso per garantire l'interoperabilità con big frame che non ha il livello dell'opera quindi tutti quegli istituti che aderiscono pienamente a big frame per esempio stanford che usa sinopia come suo editor di di load non ha il livello dell'opera non gestisce il livello dell'opera quindi per garantire l'interoperabilità con questi altri sistemi abbiamo deciso che una buona parte degli attributi devono confluire a livello diciamo del work che ripeto corrisponde all'espressione mentre l'opera rimane un'entità molto più leggera è quella concettualmente più astratta ed è quella che ha anche meno dati degli altri se non quelli essenziali quindi anche i soggetti così come le classificazioni sono confluiti nel livello intermedio del work mi è chiaro mi è chiara la scelta dico che è molto pragmatica e la condivido da questo punto di vista dal punto di vista invece concettuale mi fa rizzare i capelli lo so anche a noi la fatti rizzare inizialmente però c'è da dire la definizione di opera è il contenuto intellettuale però Carlo c'è da dire una cosa infatti abbiamo parlato proprio ieri con altre persone del gruppo di questo l'associazione adesso parliamo del soggetto in generale quindi come stringa alla quello che per noi è lo servidio che è un tipo di bf work e quindi è più vicino all'expression che cosa consente consente all'opera all'opus quella che per noi è l'opus di ereditare volendo tutti gli attributi del work va bene quindi se io gli attributi diciamo di questo tipo li associo a quello che per capirsi è l'expression posso recuperare indirettamente tutti tutti i soggetti relativi all'opera considerando che è il livello più astratto e quindi con un meccanismo di ereditarietà peraltro una delle ipotesi che stavamo facendo è quella di siccome come Alessandra vi ha detto noi abbiamo il soggetto come stringa che va nel diciamo segue il modello library of congress ma abbiamo i singoli termini trattati come concept quindi con un proprio uri questi concept stavamo proprio pensando i singoli concept di collegarli direttamente all'opus quindi è un tema di analisi ancora aperto ma anche riferendomi a quello che hai detto prima ma c'è una distinzione di lingua nei soggetti siccome nei record catalografici l'identificazione della lingua per il soggetto non è così scontata perché dipende molto dall'ILS che utilizzi e in genere non è un'indicazione che puoi esprimere lo spezzettamento in termini quindi in concept ci consente a quel punto non avendo più lo stringone di agganciare Wikidata e di prendere da lì tutte le varianti linguistiche di uno stesso concetto questo è il valore aggiunto nel trattamento di un'iniziale stringa di soggetto che è collegabile a diciamo noi l'abbiamo collegata al work ma ripeto può essere ereditata da tutti gli opus rispetto al concept che puoi riconciliare con l'elemento di Wikidata da cui derivi per esempio le forme linguistiche nasce anche da qui chiaro c'è un piccolo problema ho avuto la stessa discussione per altre cose con un utente di Wikidata che mi diceva che se ci sono già i concetti all'interno di un soggetto non ha senso creare diceva la stringa d'accordo e voi state facendo il processo contrario cioè dalla stringa derivate i concetti che la compongono che la costituiscono attenzione perché i concetti poi non possono essere ristrutturati in una stringa in modo automatico cioè se voi lo scomponete rimane scomposto esempio partiamo da due stringhe che sono filosofia della storia e storia della filosofia che evidentemente sono due concetti completamente diversi scomposti diventano due concetti uguali filosofia e storia ma ricomporli in modo corretto non si fa con l'automatismo perché perdete una parte significativa della stringa che è la sintassi cioè il ruolo il rapporto tra le varie componenti comunque però Carlo questa discussione è interessante scusate perché è molto non vorrei portare fuori il discorso la vorrei riprendere però una cosa innanzitutto la stringa originaria per noi è fatta di termini in cui filosofia della storia è un termine che non scomponiamo mai è filosofia della storia trattino trattino no sarebbe filosofia trattino storia eh ma noi non facciamo l'altro invece sarebbe storia trattino filosofia sono due concetti diversi che però si agganciano a due uri diversi esatto sono gli stessi diciamo però noi non troviamo mai a ricomporre le stringhe cioè la stringa rimane quella originaria sì d'accordo ma se tu poi prendi i vari elementi e li colleghi all'opera diciamo quella che sta sopra il cappello lì la ricomposizione non la puoi fare hai sempre dei termini isolati questo stavo dicendo certo lì ti serve la stringa ecco cioè se tu la scomponi hai le tue stringhe le mantieni a livello inferiore a livello superiore puoi attribuire i termini ma non attribuire una stringa significativa ecco questo era il diciamo così il problema che volevo segnalare siamo mica al punto di dover dare il peso ai connettori sì sì secondo me il prossimo passaggio è quello anche perché stiamo parlando di link e data se non trattiamo le relazioni tra i termini ci diamo la zappa sui piedi secondo me questo diciamo che per i soggetti sarebbe sarebbe bello poter fare un altro incontro dedicato esclusivamente a quello e penso che non concluderemo niente di a parte discutere però è molto però si aprirà io mi zittisco adesso perché ho fatto domande solo io non vorrei che no però io approfitto per fare un invito siccome questo dei soggetti è un tema che noi avevamo volontariamente posticipato un po' rispetto anche alla community perché già la riconciliazione del soggetto è tanta roba cioè non è che dietro lo stesso termine intendi esattamente lo stesso concetto famiglia famiglia e vediamo in quale contesto viene interpretato allo stesso e però si aprirà un tavolo di discussione e veramente l'invito è che voi ci siate cioè che siate presenti magari lo facciamo italiano così ci capiamo e poi riferiamo agli americani però però è un invito io volentieri insomma quando questo è un argomento che ci interessa vero Stefano sicuramente è un ambito di indagine molto interessante molto bello è di punta a questo punto perché credo che non ci sia nessun altro che ci sta pensando pochi insomma è talmente spinoso che tutti lo rimandano ad altri quindi se abbiamo il coraggio come hai iniziato a fare FRBR hai detto questo ne parleremo e poi anche RDA ha fatto lo stesso esatto è rimasto lì quindi se non trovano qualcuno che tira fuori le castaglie dal fuoco non si esattamente posso dire una cosa che non è una domanda solo ringraziarvi tantissimo anche per aver citato il lavoro che stiamo facendo all'interno di Share Catalog che comunque è bello impegnativo ci sta facendo crescere tantissimo sia fra di noi sia in relazione ad un progetto appunto così vasto e con tanti stimoli avete tirato fuori una quantità appunto di stimoli veramente incredibile che è difficile pure riuscire a sistematizzare poi in un'ora insomma è stato molto molto interessante e tra l'altro anche interessante sentirlo nella tua lingua diciamo a volte a volte saresti per noi Claudio che gioia immagino quanto è dura e anche quanto è stimolante perché poi i partner sono veramente appunto di altissimo profilo una cosa che ci terrei a dire è andatelo a vedere poi c'è la beta di ShareVD andatelo a vedere perché è interessante anche rispetto a quello che c'è attualmente cioè agli altri progetti diciamo che adottano delle logiche simili ShareVD per quanto ora sia una beta se l'ho andata a vedere capirete quanto è più orientato all'usabilità per me questo è è stata diciamo è stato il passaggio che mi ha fatto convincere che anche per il nostro cercatalo c'era bisogno di fare quel tipo di evoluzione e quindi di metterci la forza diciamo di ragionare su come arrivare a quella a quel modo di esprimere diciamo i nostri dati questo e quindi se non ce l'avete se non avete presente dove sta vi metto il link in chat perché secondo me è un po' di giocarci un po' per quanto appunto sia ancora una beta ne vale a bene grazie Claudio grazie veramente anche a voi allo sforzo che state facendo importante di seguire tutto e di stare al passo anche soltanto a livello informativo perché è una comunità molto ampia molto stimolante anche molto complicata da seguire non ultimo per la difficoltà della lingua che veramente lo sappiamo tutti insomma non è semplice però voi innanzitutto siete stati gli apripista e quindi vi meritate sempre quel titolo non me lo leva nessuno perché prima di voi non possiamo mettere nessuno ma poi state facendo anche uno sforzo perché avete capito la differenza proprio di approccio in questa seconda versione lo sforzo che è stato fatto per presentare i dati in modo che siano comprensibili agli utenti finali perché insomma è anche quella la cosa importante e poi del tanto lavoro che si sta facendo ancora quindi davvero ringrazio io voi tutti noi ringraziamo detto anche Alessandra in chat per ringraziare voi ovviamente una visione con la V maiuscola addirittura ottimo è vero è vero vediamo grazie di nuovo a Tiziana Alessandra mi rimangio tutte le domande che volevo farvi ve le farò per mail grazie ancora penso che sia in assoluto l'incontro che ha dovuto più lungo più lungo ma interessantissimo quindi grazie ancora davvero di tutto alla prossima occasione a Tiziana Grazie a tutti.